Non ci credo più alla sensibilità dei consiglieri comunali, non ci credo più, perché è quattro anni che nella mia vita faccio il consigliere comunale e la sensibilità purtroppo è qualcosa di personale, che non si può trasmettere ad altri. A 15 giorni dalla campagna elettorale prossima facciamo e modificiamo il regolamento per dare un segnale alla città, l'unico segnale che possiamo dare alla città è quello di andarcene tutti a casa. Dobbiamo invece rendere conto e soddisfazione alla gente di quello che facciamo. Io ho sempre detto, perché non pubblichiamo mensilmente e rendiamo conto alle persone di quello che facciamo?